Oggi sono qui a Canazei per rendermi conto di persona, di perché è successo e vi assicuro è molto importante essere venuti. Ho fatto un punto tecnico operativo con tutti coloro che hanno collaborato alle operazioni ma soprattutto sono qui per esprimere la più sincera, la più affettuosa e più accorata vicinanza alle famiglie delle vittime, dei dispersi, ai feriti e alle comunità che sono state colpite da questa tragedia. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato in questo giorno e mezzo, voglio ringraziare la protezione civile, i vigili del fuoco, il soccorso alpino, le autorità sanitarie, i volontari, ringraziarli tutti per la loro generosità, la loro professionalità, il loro coraggio. Perché come sapete queste operazioni si sono svolte e si svolgono in una situazione di grande pericolo. Voglio anche ringraziare il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, il Presidente dei più Presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano, il Presidente Fugatti con cui ci si è sentito immediatamente ieri, è presente con faccia. Ora, questo è un dramma che certamente ha dell'imprevedibilità, ma certamente dipende dal deterioramento dell'ambiente e della situazione climatica. Oggi l'Italia piange queste vittime e si stringe a loro, tutti gli italiani e gli italiani si stringono a loro con affetto. Al governo deve riflettere, deve riflettere su quanto è accaduto e deve prendere dei provvedimenti, perché quanto è accaduto abbia una probabilità bassissima di succedere o possa addirittura essere evitata. Grazie.